Penso che sia il posto migliore per ribadire l'invito al nostro Presidente del Consiglio per venire a visitare quella che è un'opera strategica fondamentale per l'Italia e per l'Europa e per vedere soprattutto che questa opera c'è, ci sono più di 6 km di tunnel di base scavati e solo vedendo e toccando con mano il grande lavoro che viene svolto quotidianamente 24 ore al giorno si può capire il vero valore fondamentale di questa infrastruttura.